buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del fatto del giorno con l'annuncio di vladimir putin del riconoscimento da parte di mosca delle repubbliche separatiste ucraine di donetsk e lugansk lo spettro della guerra tra kiev e mosca si fa sempre più incombente infatti il cremlino ha già inviato nel donbass delle truppe con lo scopo secondo la sua versione di garantire la pace ma se la russia dovesse decidere di cominciare un conflitto con l'ucraina da dove comincerebbe la sua invasione lo scenario più facile e giustificato da un'azione di peacekeeping per separare le forze ucraine e quelle separatiste sarebbe ovviamente quello nel donbass mentre il secondo vedrebbe un attacco da sud sfruttando la presenza russa in crimea con sbarchi anche sul mare di azov il terzo scenario sarebbe quello infine che porterebbe direttamente a kiev con l'eventuale supporto da nord di della bielorussia di alexander lukashenko la crisi di tra russia e ucraina è il risultato di un conflitto che va ormai avanti dal 2014 quando vladimir putin invase la crimea e annesse e sostenne i movimenti separatisti nella regione del donbass in questa terra infatti un'alta percentuale della popolazione si identifica come nativa di lingua russa e le repubbliche popolari di donetsk e lugansk sono ormai governate dai separatisti che le hanno anche dichiarate indipendenti ai confini appunto del donbass ci sono al momento tra le 130 mila e le 150 mila truppe russe ma l'esercito di mosca potrebbe arrivare a contare anche 200 mila unità l'ucraina risponde con 205 mila truppe attive sul territorio e potrebbe contare anche sul sull'apporto da parte della nato con 51 mila 900 soldati arrivati dai paesi confinanti è proprio il possibile anche se il momento molto difficile ingresso del dell'ucraina nella nella nato ad aver spaventato molto vladimir putin a chi aveva infatti negli ultimi anni ha ricevuto il supporto militare del fronte occidentale e l'alleanza si è allergata molto dopo lo scioglimento dell'unione sovietica annettendo diversi paesi confinanti e diciamo riaccendendo la preoccupazione del cremlino per un accerchiamento nei suoi confronti è tutto vediamo appuntamento alla prossima edizione del fatto del giorno